dell'agente Filippo Raciti. Eccolo inquadrato. Che ricordo ha di quella giornata? Beh, fu il momento più triste della mia carriera perché sicuramente è un derby particolare, un derby difficile. Noi restamo per circa 40 minuti negli spogliatoi, non sapevamo cosa era già successo all'esterno, però sicuramente quando siamo andati sui droni di gioco abbiamo cercato di fare il meglio che si poteva fare. Poi terminata la gara ci diedero questa notizia, questa tragica notizia e devo dire che è stata l'unica volta in cui uscendo dallo stadio ho veramente avuto la sensazione e la paura che un arbitro o una persona che aveva giocato poteva morire. Perché quando siamo usciti, siamo usciti con le due macchine, dei carabinieri ci scortavano, come vedete con questo tipo di incidenti al di fuori dallo stadio, cassonetti e la spazzatura in fiamme e da un momento all'altro qualsiasi persona avrebbe potuto lanciarci qualche cosa in macchina, per cui veramente momenti in cui ho capito quanto poter.